Alcune persone pensano che gli animali non provino emozioni, ma si sbagliano di grosso. Quando finirete di guardare questo video, anche voi capirete perché. Numero 8. Orso salva un corpo Gli orsi hanno una reputazione da creature molto pericolose, sempre pronte a divorare qualsiasi animaletto nelle vicinanze. Ma forse il filmato che stiamo per mostrarvi vi farà cambiare idea. La maggior parte delle persone non sa che gli orsi seguono una dieta prevalentemente vegetariana. A parte qualche salmone ogni tanto. Gli attacchi agli altri animali sono soltanto il risultato della necessità di proteggere i cuccioli o il territorio. In questo video, infatti, potete vedere un orso che recupera un corvo che sta annegando in un fiume. E dopo averlo messo in sicurezza, coglie una bella mela da mangiare come spuntino. Per un orso la frutta è mille volte più appetitosa di un pennuto. Questo non significa che potete avvicinarvi senza paura agli orsi che incontrate nei boschi. Se si sentono minacciati, questi animali passano rapidamente al contrattacco, con degli artigli affilati e una bocca zannuta che vi farebbe venire i brividi. Numero 6. Gorilla protegge un bambino. Ecco un altro filmato che sarebbe potuto finire molto male. Questo bambino è caduto nel recinto dei gorilla dello zoo. Sembra aver perso i sensi e giaccia a terra immobile. I visitatori sono terrorizzati e non sanno cosa fare, soprattutto quando si accorgono che un grosso gorilla si sta avvicinando al piccolo. Tutti temono che il primate attaccherà il bambino, ma il gorilla li stupisce mostrando una delicatezza inaspettata. La scimmia carezza il piccolo per controllare se si è ferito e non esibisce un atteggiamento aggressivo. Quando il bambino si sveglia, i visitatori gli urlano di rimanere immobile. Soddisfatto del risultato, il gorilla si allontana e gli inservienti dello zoo corrono per riportare il piccolo ai suoi genitori. Tutto è bene quel che finisce bene. Secondo voi, cosa ha pensato il gorilla di quel piccolo umano nel suo recinto? Numero 5. Leonessa protegge un uomo. Anche il prossimo filmato è spaventoso. Please. Ma per fortuna, nessuno dei protagonisti è rimasto ferito nello scontro. Un inserviente dello zoo si trova all'interno del recinto dei leoni. Improvvisamente, il maschio alfa sembra infastidito dalla sua presenza e si lancia all'attacco. In condizioni normali, l'uomo sarebbe stato sbranato sul colpo, ma per sua fortuna, una leonessa si frappone tra il leone e l'inserviente per proteggerlo. La sua presenza scoraggia il maschio per il tempo necessario a richiamare un altro inserviente, che si assicura di mettere in salvo il suo compagno. Riuscite a immaginare la paura che deve aver provato quell'uomo? Siamo sicuri che da quel giorno in poi la leonessa ha ricevuto una dose doppia di cibo ogni giorno, come ringraziamento. Numero 4. Elefante salva un uomo Ecco un altro video che vi dimostrerà la tenerezza e la premura degli animali nei confronti delle persone a cui sono affezionati. Nel filmato potete vedere un uomo di nome Derek che nuota in un fiume. Sebbene la corrente sia molto forte, l'uomo è un ottimo notatore e riesce a raggiungere l'altra spolla senza difficoltà. L'elefante alle sue spalle, però, non è sicuro che sia in salvo e si lancia in acqua per aiutarlo a metà della traversata. L'esemplare è una femmina di nome Cam La che vive nell'Elephant Nature Park dove Derek lavora. Preoccupata per lui, Cam La lo insegue fino all'altra spolla, che un uomo ed elefante raggiungono nello stesso momento. Tecnicamente non lo ha salvato, ma lo avrebbe fatto se Derek si fosse ritrovato veramente in pericolo. Numero 3. Uccelli aiutano i pescatori Questi pennuti sono famosi in tutto il mondo. Sono dei cormorani cinesi che aiutano i pescatori a pescare. Questa tradizione si svolge ogni giorno lungo il meraviglioso fiume Lijang, nei pressi di Guilin. È una destinazione turistica molto gettonata in Cina, famosa per le sue montagne carsiche. È una regione immersa nella natura e la tradizione della pesca coi cormorani risale a diversi secoli fa. I pennuti in questione hanno un anello intorno al collo che impedisce loro di ingoiare i pesci che catturano. Tuttavia, dopo una giornata di lavoro, vengono nutriti dai pescatori stessi, che mettono da parte per loro una parte del pesce già spinato e fatto a pezzi. I pescatori moderni preferiscono usare le barche e le reti, quindi questa tradizione si estinguerà presto. Che cosa pensate di questa collaborazione tra umani e pennuti? Numero 2. Golden Retriever salva un gatto Questo video cattura il tenero momento in cui un cane di razza Golden Retriever trova un gattino randaggio che ha perso la mamma e decide di riportarlo a casa con sé per prendersene cura. Guardate quanto è emozionato! Di solito, gli animali di specie diverse si limitano a interagire per pochi minuti. Eppure, questo cane ha preso sul serio il suo ruolo di mamma adottiva. Per fortuna, i suoi padroni lo aiutano con il suo nuovo cucciolo, allattandolo con un biberon di latte sotto lo sguardo attento del cagnolino. Dopo un lauto pasto, cane e gatto si godono un meritato pisolino. Che dolci! Numero 1. Cobra proteggono un bambino Questo video scioccante riprende un bambino addormentato al centro di una rete di cobra. Quando è stato pubblicato su internet, gli utenti del web hanno reagito con sgomento di fronte all'incoscienza dei genitori del bambino, che hanno abbandonato il figlio alle cure di un branco di serpenti estremamente velenosi. Alcune persone hanno ipotizzato che i cobra fossero stati privati dei denti e delle sacche velenifere. Ma questo non significa che usarli come babysitter sia comunque una buona idea. Si dice che nel sud-est asiatico molte persone affidino il compito di proteggere i bambini ai serpenti, e in effetti il piccolo sembra perfettamente al sicuro. Sembra persino che stia cercando di accarezzare uno dei cobra. Potrebbe essere il figlio di un incantatore di serpenti? A prescindere dalla risposta, noi vi consigliamo comunque di assumere un babysitter umano e di tenere i vostri figli alla larga dai serpenti velenosi. Quale di questi filmati vi ha stupito di più? Ditecelo nei commenti! Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.